I fatti risalgono al giugno 2005, quando, mediante una delibera del Consiglio Comunale, all'epoca guidata dalla Giunta d'Alfonso, fu concesso il permesso di ampliare l'Istituto Pescarese Ravasco, in cambio di tre prescrizioni. Dopo dieci anni, il Movimento 5 Stelle dimostra che non furono mai rispettate. In una delibera di Consiglio Comunale del 2005, venne data la possibilità all'Istituto Ravasco, in deroga al piano regolatore, di effettuare una soprelevazione e un ampliamento dell'edificio scolastico. In cambio della deroga, il Consiglio Comunale impose alcune prescrizioni, ovvero la cessione di un paio di lotti che erano confinanti con la strada parco, la realizzazione di un parcheggio pubblico di circa 400 metri quadri e l'apertura di tutto il parco Ravasco al pubblico con delle modalità da concordare con l'amministrazione. Ad oggi, cioè dieci anni dopo, l'Istituto Ravasco ha assolutamente beneficiato del diritto di costruire che era stato conferito dalla delibera di Consiglio Comunale, ma non ha ottemperato agli obblighi che erano degli obblighi per la collettività, cioè non ha svolto ciò che il Consiglio Comunale aveva deliberato di fare a vantaggio della pubblica amministrazione. Una inottemperanza che potrebbe costare caro all'istituto religioso, comportando anche l'ingiunzione alla demolizione della nuova porzione realizzata. Noi chiediamo quindi adesso all'istituto Ravasco, sia per quello che rappresenta come appunto un edificio scolastico e come centro di educazione e di formazione dei nostri figli, dei cittadini, di ottemperare a ciò che la legge ha chiesto, ovvero la realizzazione di questo parco pubblico, l'apertura di questo parco pubblico e la realizzazione di questo parcheggio ha destinato proprio alla collettività, che lo chiede da tempo.